benvenuti in questo nuovo canale benvenuti in questo video ebbene sì ce l'abbiamo fatta dopo anni e anni che me lo chiedete finalmente via contento abbiamo creato un nuovo canale dedicato solo alle lame lame bushcraft sopravvivenza alcuni di questi argomenti verranno trattati in questo canale sarà un canale senza peli sulla lingua dove dirò pane al pane e vino al vino non ci sono sponsorizzazioni e quindi parlerò dei coltelli tutti i coltelli che ho acquistato negli anni e ne parleremo in maniera chiara inizio con questo primo video il confronto tra il black fox tarlo e il estrema razio satre ed ecco qua i nostri due soggetti in questione vediamo che entrambi hanno un fodero in kidex qui vediamo il tarlo della black fox e qui vediamo l'estrema razio satre entrambi come vi ho detto hanno un bel fodero in kidex e sono cosiddetti neck knife coltelli si mettono al collo mentre il satre ha un fodero col cordino il nostro black fox vediamo che invece ha una comoda clip per portarlo in orizzontale o in verticale alla cintura dopo le vedremo nei dettagli queste cose le vedremo nel particolare bene adesso vediamo un attimino come sono fatti ciò non toglie che possiamo mettere sia il cordino al fodero del black fox e sia una ulti clip oppure anche solo col paracor fissare in cintura sullo spallaccio dello zaino anche il nostro satre ed ecco vediamo qua le nostre due lame insieme insieme il black fox e il satre vediamo un attimino come sono fatti sono tutti i due full tang black fox ci viene già consegnato paracordato quindi già col suo paracore intorno al codolo appunto come abbiamo detto scheletrato mentre invece il satre ho dovuto paracordarlo io l'ho paracordato levando alcuni fili nel paracord per avere una un lineamento più stiloso altrimenti viene troppo grosso il che è più comodo per la mano ma un po meno gestibile e soprattutto veramente molto brutto da vedere quindi ho dovuto fare questo escamotage lo vediamo in impugnato ed eccolo lì qui sono i nostri due coltelli entrambi paracordati vedete la forma come viene io spero di averlo paracordato sufficientemente bene ma direi di sì perché l'ho utilizzato e il paracord ha tenuto adeguatamente bene mi sto facendo vedere un po le linee di entrambi i coltelli che adesso andremo ad analizzare uno per uno quindi a vederli singolarmente ed eccoci qua con il nostro primo pezzo che è il famoso black fox prodotto dalla fox ditta italiana di maniago lo vediamo adesso nel particolare e andiamo a vederne i dettagli lo troviamo oggi in commercio sulle tra le 40 e le 50 euro e direi 41 euro è un prezzo che ho trovato molto più spesso allora la lunghezza della lama è 75 mm quindi 7 centimetri e mezzo di lama la lunghezza totale del nostro black fox tarlo è di 170 mm quindi 17 mm vedete che adesso ve lo faccio vedere su entrambi i lati anche come paracordato vedete un attimino come è il suo stile la sua linea perché alfredo doricchi ha veramente fatto un piccolo capolavoro come ci ha abituato solitamente lo spessore della lama è 4 mm la lunghezza totale è di 170 mm 17 mm per un peso di ben 80 grammi vi faccio vedere come si impugna si impugna molto bene anche se qua non c'ha godronature però il dorso permette una buona impugnatura vediamo anche impugnatura reverse va molto bene vediamo qua il suo fodero adesso suo fodero in kidex quindi solo il fodero vale il prezzo del coltello e vediamo che a questa clip ve la faccio vedere adesso da entrambe le parti cerco di farvi vedere bene il suo meccanismo che vedete che è molto ben ritentivo però anche semplice da sganciare eccolo lì vi faccio vedere la molla vedete la molla basta tirare in giù e si sgancia quindi è pronto per essere messo in cintura in orizzontale o spostando ovviamente le viti le due viti che lo trattengono in verticale e viceversa oppure anche per attaccarlo a uno spallaccio direi che il fodero è molto molto ben fatto anche la ritenzione del fodero è ottima e veniamo adesso al satra dell'estrema razio satra l'estrema razio vedete che la lama è stone washed è costruita nel famoso acciaio n 690 co solito acciaio utilizzato dall'estrema razio che sa ben lavorare termicamente che ci dà un 58 60 h rc quindi siamo molto vicini anche i valori del tarlo vediamo nel nel dettaglio nelle dimensioni è un full tang come il tarlo e non vi viene dato però paracordato l'ho paracordato io come abbiamo detto prima in introduzione il la lunghezza della lama è di 70 mm quindi 7 centimetri contro i 7 e mezzo vediamo lo spessore che di 5 millimetri ea sopra il dorso o la spine che dir si voglia questa godronatura o gimp anche qualche dir si voglia che permette il blocco del pollice quindi il non scivolamento del pollice quando si fanno delle lavorazioni di fino cosa che nel tarlo non c'è ma che viene risolta con quella gobba costruita doc impensata doc da alfredo doric vediamo qua e la lama la lunghezza totale di 163 mm 15 16 cm e mezzo per un peso di 78 grammi due grammi in meno del black fox li vediamo confrontati e qua abbiamo avuto l'esperienza di daniele dal canto avventuriero e buscrafter di rinomata fama non che istruttore mentre per il black fox abbiamo detto abbiamo l'esperienza di alfredo doricchi due pezzi del vanto italiano qual prezzo però è notevolmente maggiore siamo in media sui 143 euro quindi tre volte tanto quello che ci costa il tarlo andiamo a vederli in azione vediamo come si comporta il tarlo il tarlo penetra bene nel legno anche se il taglio resta un pochino più fine e superficiale di quello del satre vedete la gobbetta che vi di cui vi parlavo prima vedete come tiene bloccato il pollice e permette una lavorazione di fino guardate un po come lavora bene la lama come penetra nel legno e c'è a dire come che si impugna bene e il manico è meno fastidioso devo essere sincero paraccordato in questa maniera oltre che più stiloso di quello del satre in questo caso un punto a vantaggio del black fox tarlo che vediamo come in italia tranquillamente il legno vediamo adesso come si comporta il satre anche satre come vi dicevo appunto in base all'esperienza di daniele dal canto ha una bella lama anche se il taglio è un po meno fine ma è più potente un po meno fine anche dovuto a un millimetro maggiore di spessore della lama vediamo come si comporta nel legno e vediamo che il taglio è più potente più profondo scende cala di più nel legno difatti io faccio una critica a daniele dal canto e alla estrema razio perché avessero fatto un manico un po più comodo sarebbe stato veramente un utility knife di grande pregio allora sì il costo che ci viene richiesto avrebbe avuto un senso compiuto vediamoli qua insieme appunto come vi dico con pur con la paracordatura il manico resta anche un grazie a un angolo retto molto vivo uno spigolo molto vivo che si crea sul dorso del coltello un pochino più fastidioso e più scomodo del tarlo e purtroppo queste sono le differenze vedete che abbiamo questo foro sulla lama che aiuta quando si utilizza per fare una lancia entrambi i coltelli sono nati appunto per poter essere utilizzati come punta di lancia e quindi essere legati col paracord a un bastone il foro che vedete impedisce nel caso si staccasse dalla nostra punta di lancia di perdere il coltello che ovviamente in emergenza non è cosa buona e giusta ed eccoci qua le conclusioni finali li vediamo appaiati li rivediamo appaiati come dicevo prima sono due ottimi neck knife nati per l'utilizzo da campo per i piccoli lavori anche di precisione oppure come backup nel caso della perdita lo smarrimento del coltello principale e hanno però due prezzi completamente diversi e qua visto la minima differenza tecnica se non per la stilosità o per il tipo di lama diverso la vince la grande il black fox tarlo che ovviamente costa un terzo dell'estrema razio e questo un po e me ne dispiace come vi dicevo l'estrema razio ha un'incisione più potente nel legno però un manico anche un pochino più scomodo quindi sicuramente il best buy è il black fox tarlo mentre l'estrema razio è più un buy un acquisto che fa ovviamente lustro che fa figo diremo noi in italiano entrambi però bisogna essere sinceri sono due ottimi prodotti italiani due ottimi prodotti di qualità residui della nostra ottima coltelleria che purtroppo però compete armi impari con quella statunitense con quella straniera in generale anche i costi devo dire che confronto quella straniera sono un pochino più alti c'è da dire che il black fox viene prodotto in cina per la fox e quindi è con abbattimento di costi a differenza che dell'estrema razio che viene prodotto in italia e quindi con costi più alti anche di produzione entrambi i coltelli molto validi e secondo me entrambi sono promossi con la differenza di prezzo che un po ci sta per la marca ma per il resto per diciamo così qualità e tipo di utilizzo direi anche di no qua un pochino l'estrema razio l'ha fatta come il solito fuori dal vaso ci vediamo un prossimo video ciao a tutti da armando